Perché vorrei premiarti con il premio Emozioni, che mi pregio di averlo creato io. Questo è il premio Emozioni che regaliamo a Mauro Naser. Grazie, per me è un onore riceverlo, grazie tanto di cuore. Onore il mio darlo. Grazie. E il profilo di Lucio Battisti tratto dalla copertina del famosissimo 45 giri Emozioni. E poi abbiamo anche una carghetta a Mauro Naser per la professionalità, la sensibilità e l'amore dimostrato per Lucio Battisti nel corso del premio Emozioni 2010. Grazie Mauro. Grazie a te, grazie a tutti voi. Grazie. E adesso magari ti faccio riposare un attimino perché la gente vuole sapere chi ha vinto qua. Ma bene. Però devi stare al mio fianco perché vorrei farli premiare da te. Grazie. Ci stai? Sì. Benissimo. Buonanotte, grazie ancora. Vi lascio con Mauro Maser. Emozioni. L'altra gara, l'altra gara, l'altra gara. Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume poi. Buonanotte, ritrovarsi a volare e sdraversi felice sopra l'erba e ascoltare un settile di spiacere. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Tu non pensi perché quando cade la tristezza infungo al cuore. E guidare come un pazzo fa rispetti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me. Ma nella mente tua non c'è capire che non puoi. Tu chiamare le sembrone emozioni. 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 Nascere un giorno, un'ansia rossa E prendere appunto di un uomo solo perché è stato un po' scortese Sapendo che quel che brucia non so le offese E chiudere gli occhi per fermare qualcosa che è dentro me Ma nella mente tua non c'è Capire tu puoi Capire tu puoi E prendere appunto di un uomo solo perché è stato un po' scortese E prendere appunto di un uomo solo perché è stato un po' scortese Capire tu puoi Capire tu puoi Capire tu puoi